All'inizio di grande cordialità si è svolto il tradizionale scambio di auguri di buon anno dei popolari di Italia Domani di Avellino. Lo scambio si è svolto alla presenza del coordinatore provinciale Pasquale Giuditta, sindaco di Summonte e promotore dell'iniziativa, e del parlamentare l'onorevole Michele Pisacane, coordinatore regionale. Un incontro molto sentito che si è aperto con l'intervento dell'ex sindaco di Sant'Andrea di Conza, Valentino Bellini, il quale ha sottolineato vari aspetti politici nazionali che molto spesso hanno anche ripercussioni sulle amministrazioni locali. Nel puntuale e preciso intervento Valentino Bellini ha fatto una disamina di quelle che sono le maggiori difficoltà che oggi si trova ad affrontare la politica e quali sono le prospettive anche alla luce della nascita di questo nuovo soggetto politico. Un soggetto politico nuovo che trova ampia consenso anche in provincia di Avellino e che a partire da gennaio avvierà una fase di confronto sul territorio che mira a mettere insieme quelli che sono i moderati cattolici e centristi. Ed è proprio il coordinatore provinciale di Avellino, Vascua e Giudetta, ad aver offerto vari dispunti di riflessione in questa direzione. Il sindaco di Sommonte ha posto l'attenzione sul clima di arrabbiatura generale che si respira in ambito politico, definendolo un valido indicatore dello scontento generale. Ha posto l'attenzione sul fatto che si parla più di assetti che di politica ed ha evidenziato come da parte dei cittadini purtroppo vi sia sempre più spesso un disinteresse ed un allentenamento dalla politica che va recuperato. Si tratta di un momento difficile, non possiamo delegare, ma dobbiamo essere noi protagonisti affinché si possa dare una svolta a questo sistema che troppo spesso arranca. L'ex parlamentare ha dunque posto l'attenzione sui popolari di Italia domani, rinviando a nuovi incontri conoscitivi e di approfondimento che dal gennaio prenderanno in via. Poi ha chiuso il suo intervento dicendo che dobbiamo fare una politica sugli uomini e non per gli uomini, intendendo che le scelte vanno fatte e ponderate, tenendo ben presenti quelle che sono le esigenze e i bisogni emergenti nella comunità, non fatte per gli uomini nel senso che vadano ad avvantaggiare solo piccoli gruppi.